Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con l'Ariatto, io sono Stefano, una delle voci di questo progetto e anche oggi sono qui per parlarvi del G1 Climax. Oggi parliamo delle giornate 5 e 6, giornate che sono state praticamente fatte venerdì e domenica e che finalmente oggi possiamo chiacchierare insieme e possiamo vedere un pochino come sono andate e per quale ragione ci sono delle cose molto interessanti da dire. Partiamo subito con la cosa principale e cioè il fatto che sta funzionando tantissimo il discorso dei 20 minuti a match che stanno davvero lavorando in modo molto corretto sulle tempistiche dello show. Funziona il fatto che non ci siano più i match di coppia prima di quelli del torneo, insomma è un torneo che finalmente ha la faccia, il volto del torneo che secondo me funziona veramente. Cioè dedicato, tu stai lì ed è dedicato interamente a lottatori e pubblico, ai lottatori che possono concentrarsi solo su quei match e al pubblico che può concentrarsi bene e tenere veramente in modo facile tutti i conti di come stanno andando quel lottatore X contro il lottatore Y. non li vede magari uno schiena all'altro un giorno in un tag match e la volta dopo è il contrario e quindi si incasina. No, rimane tutto molto più concentrato, rimane tutto molto più il succo, ok? Rimane proprio il succo. Quindi, quindi partiamo con il giorno 5 dove si parte con il blocco B dove Yoshi Ashi riesce a strappare una vittoria a Tangaloa, un match praticamente tra due phase, lottato in modo coerente, tranquillo, molto tranquillo. Ghib Kid invece nel blocco A batte Renarita con un low blow. Renarita è uno di quelli che farà fatica a prendere punti ma potrebbe essere quello che toglie i punti a qualcuno di grosso e di importante nell'andare avanti del torneo. Sono molto curioso, mi piace molto, è un lottatore che io adoro. Ghib Kid è molto bravo, il problema ovviamente è la gestione della gimmick attuale che deve essere così come lo stiamo vedendo e per tutto il torneo verosimilmente sarà così. Bello il fatto che Ghib Kid ha sempre preso le persone di sorpresa all'ingresso, Renarita che entra prima di lui, si gira e gli dice, sgamato subito, vieni sul ring, lottiamo, lealmente, diamoceli di santa ragione ma sul ring. Mi è piaciuto tantissimo, è veramente l'atteggiamento che poteva avere e che ha in qualche modo The Wrestler, il suo mentor, cazzo io, Rishibata. Gretokan riesce a battere il fantasma che non ha ancora trovato la quadra, però si sta comportando molto bene. Peraltro il fantasma ho scoperto adesso, praticamente un giorno fa, che ha avuto dei problemi in famiglia piuttosto importanti. Gli è morto il nonno mentre lui l'ha saputo un'ora prima di andare a lottare contro Okada, quindi nella giornata 3 se non sbaglio. È la durissima vita dei lottatori, no? Non poter avere contatti diretti, il fatto che c'è uno show e questo show va portato avanti, il fatto che sei in un torneo complesso, grosso, fondamentale per tante dinamiche all'interno della New Japan, che è una delle federazioni più grosse, più importanti, sei un professionista durissima, durissima per i lottatori davvero. È un lavoro, fa parte di quelle categorie di lavori molto complicate. Noi ne parliamo con tutta l'umiltà del mondo, non credo di dover mai fare giudizi importanti nei confronti delle persone. Magari il performer in quanto tale non mi piace, sbaglia delle cose che non sono magari il botch, ma magari sbaglia una narrazione. Ok, ci sta che si fa un'analisi. E anche perché comunque lo guardiamo perché ci piace, quindi se ci piace vuol dire che ci sono delle cose che non ci piacciono, che sono minore rispetto a quelle che ci piacciono. Ragionamento contorto, non vi preoccupate, posso fare di peggio. Di base, comunque, sono esseri umani in viaggio, a volte, come nel caso del fantasma, da un'altra parte rispetto a dove abitano i propri cari, ed è difficile gestire il tutto, molto difficile. Quindi veramente un grosso abbraccio al fantasma per la sua perdita. Nel blocco A, invece, Chase Owens riesce a battere il Culeo e lo batte attraverso un colpo con la ginocchiera, un colpo di rapina, quindi, no? Riesce a vincere questo match. Chase Owens che sopraavanza il Culeo, che rimane ancora lì. Will Osprey, invece, batte Kent in un match straordinario. Questo qui è un match da recuperare, questo qui è un meccione. C'è stato veramente botte, botte, botte. C'è stato un Kenta che sembrava quello che andava contro Marufuji ai tempi della Noa. C'è stato un Osprey che sicuramente ha fatto anche qualche riferimento a Marufuji importante. Kenta si è svegliato quasi durante questo match. Bello, bello, bello. Assolutamente recuperatelo perché è stato uno dei match più interessanti, ovviamente, di questa giornata, sicuro. Ma in generale delle cinque giornate finora. Bello anche il successivo tra Chiaomiya e Shotaumino. Shotaumino che blocca Chiaomiya in un pareggio. Nuovo pareggio per Shotaumino, che si sta dimostrando quello tenace che non molla mai. Sta vivendo veramente una vita costruita, una vita dovrà essere costruita sulla forza di volontà del non voler mai cedere. Molto, molto, molto interessante anche il suo personaggio, che di base sembra un po' il più debole dei tre, per certi versi. E che in realtà si sta costruendo in questo torneo una nomea interessante di quello che non ha mai, mai, mai abbastanza. E vuole continuare anche se è in svantaggio. Veramente bravo, bravo, bravo. Okada invece batte Taichi, vittoria immeritata. Taichi ha fatto molto bene, ha lavorato molto bene, ha lavorato meglio di Okada. Okada però, sapete, deve vincere perché altrimenti il mondo crolla e quindi il mondo non è crollato neanche stavolta. Peccato, veramente peccato perché Taichi meritava qualcosina in più. Nel blocco A invece, Sanada batte Yotatsuji in un match diverso da quello che hanno fatto recentemente in pay per view. Un match molto interessante. In cui abbiamo visto che Yotatsuji ha provato a fare di tutto per vincere, ma non di tutto nel senso che, boh, ha buttato dentro chissà che cosa, chissà quale arma, chissà... No. Ha provato le mosse di Sanada. Dalla Dragon Slipper al Moonsault. Cioè, ha messo in gioco le armi del suo avversario. L'ha fatto anche molto bene, peraltro. Devo ammettere che mi sembra assolutamente riuscita questa cosa. Assolutamente riuscita. Vediamo ora la situazione della classifica. classifica che in questo momento vede nel blocco A Sanada a punteggio pieno con 6 punti, Kiyomiya 5, fermato a punte da Aumino. Gebkida 4. Chase Owens a 4. Ren Narita a 2, derivati da 2 pareggi. Quindi, mamma mia. Shotomino a 2, derivati da 2 pareggi. Quindi, mamma mia. Yotatsuji a 1 punto, derivato da 1 pareggio. E Ikuleo a 0 punti. Bellissimo quel terzetto di Ren Narita, Shotomino e Yotatsuji. Veramente bellissimo. Stanno dimostrando di essere grandi, grandi atleti venuti fuori dal dojo della New Japan. Veramente grandi. Blocco B, invece, a punteggio pieno, indovinate un po', c'è Okada. A seguire Osprey e Yoshihashi, che insieme a Taichi chiudono il terzetto a 4 punti. Kiretokan ne ha vinto 1, quindi 2 punti. 2 punti per Tangaloa, 2 punti per Kenta, 0 punti, fanalino di coda per El Fantasmo. La giornata 6, invece, è stata un'altra giornata comunque interessante. Ammetto che, mentre guardavo, ero un po' più disattento rispetto agli altri giorni. Era domenica ed avevo un pochino più di problemi a stare dietro a tutto. Quindi sarò meno puntuale sulla maggior parte dei match. Però, quelli che ho visto bene, ve li descriverò al meglio delle mie possibilità. Per esempio, quello tra Zack Sabre e Alex Coughlin. Sono arrivato che erano già passati un paio di minuti dall'inizio. Quindi non ho visto tutta la premises del match, come è iniziato, come è partito, come si sono ritrovati, dove si sono ritrovati. Ha vinto, però, Zack Sabre Jr., lasciando ancora un'altra volta Alex Coughlin a bocca asciutta. Vittoria che, ovviamente, va anche per cercare di mettere un po' di build su Zack Sabre. Che non so se può vincere il torneo, però secondo me va avanti parecchio. Probabilmente riesce ad andare abbastanza avanti. Ho visto abbastanza bene il match di Tamatonga contro Mickey Nichols. Tamatonga che vince è un po' quella che lui autodefinisce la versione migliore di sé. Io continuo ad essere convinto da Tamatonga per una serie infinita di ragioni. E quindi spero soltanto che possa fare il passaggio, migliorare la sua questione, la sua capacità. Anche se siamo un po' avanti con i tempi. Quindi non lo so, effettivamente, se Tamatonga riuscirà mai a diventare quel lottatore credibile che potrebbe diventare. Con il pubblico ha una presa incredibile, infinita. Quindi, bravo lui. Non ho praticamente visto Iroki Goto contro Roshane East. So che ha vinto Iroki Goto, quindi vi riporto la vittoria di Iroki Goto. Vi chiederete, ma perché non hai recuperato i match? Perché è difficile, con tutte le cose che ho da vedere. Poi avevo anche due dirette domeniche da fare. Cioè, non è stato facile. Visto che sto registrando lunedì mattina, non sono riuscito assolutamente a recuperare. Quindi, portate pazienza. Farò del mio meglio con le prossime volte. Però ci saranno alcuni giorni in cui probabilmente andrà ancora così. Ottimo, invece, l'incontro tra Kingston e Enare. Enare mi sta piacendo tanto in questo climax. Sta lavorando molto bene. Vince Eddie Kingston per sfinimento. Sfinimento di entrambi. Cioè, si colpiscono talmente tanto, si colpiscono in modo talmente duro, che alla fine l'ultimo colpo forte è quello di Kingston, che butta a terra Enare. Poi Kingston crolla a terra sopra Enare. L'arbitro non può fare altro che contare e Kingston vince. Veramente raccontato molto, molto bene. Ci stanno facendo vedere il Kingston, che probabilmente avremmo sempre voluto vedere. Si sta impegnando tanto, sta lavorando bene. Anche con Evil aveva lavorato bene, nonostante Evil. E bravo. Ma bravo soprattutto Enare, perché comunque io è da un po' che non lo seguivo con questa continuità. E vederlo adesso mi sta dando delle sensazioni diverse. Assolutamente diverse. Ma, ovviamente, ne riparleremo. Perché comunque il suo percorso sta andando ancora avanti. Nel blocco D, invece, Naito batte Toru Yano in un match comunque molto comedy. Ci ha messo un sacco Naito a entrare, perché non voleva entrare, perché fingeva di essere spaventato da Yano. È stato divertente. Diciamo che Toru Yano, in questo climax, sta giocando qualche carta un po' diversa. e si sta trovando di fronte alcune persone che sono in grado di cambiare, mettere a ferro e fuoco alcuni aspetti del suo modo di fare veramente interessanti. Veramente molto, molto interessanti, nonostante sia ovviamente la parte più... diciamo, meno forte, no? Da un punto di vista anche del lottato e contatto, però sta funzionando. Nel blocco C, Shingo Takagi riesce a vincere un match contro Tomoeiro Ishii. Buono, sicuramente, tante legne, quasi 20 minuti, quasi un pareggio anche qua. Fatto molto, molto bene. Ci sono andati forti, ci sono menati, bello. Erano entrambi a zero punti. Chi avrebbe vinto sarebbe uscito, diciamo, dal pantano più totale. Ha vinto Shingo. Scelta giusta tra i due. Buono, assolutamente buono. Un match che, anche qua, se avete tempo, insieme a quello di Eddie Kingston contro Enare, andrebbe recuperato. Pre-main event, Jeff Cobb batte Hiroshi Tanashi. Un buon Hiroshi Tanashi contro un ottimo Jeff Cobb. L'incontro è venuto bene, i due si erano già scontrati, ma sono bravi a lavorare insieme. Jeff Cobb inizia a candidarsi seriamente per un posto importante in questo blocco D. Capiremo poi andando avanti. Il torneo è già a buon punto, perché comunque i lottatori hanno già fatto tre match. Tre match sui sette che devono fare ciascuno sono già tanti. Quindi, chi è indietro indietro è troppo indietro probabilmente per risalire seriamente. Chi è avanti a meno di qualche scivolone rischia di fare un po' il vuoto sotto. E vedremo. Vedremo perché Jeff Cobb potrebbe fare qualcosa in questa parte. Main event, invece, David Finlay contro Evil. Due facce della stessa medaglia, nel senso che sono entrambi Bullet Club, uno House of Torture e l'altro, invece, il Bullet Club, diciamo, tradizionale, l'House of Torture perde giocando sul campo a loro più congeniale. Quindi, interferenze, intromissioni, rough bump, situazioni con armi, situazioni con gente che arriva a rompe le palle, Finlay riesce a vincere e, diciamo, mette un po' il timbro sul primato all'interno della stable. Quindi, si dimostra, ancora una volta, lui il vero leader e da lì, insomma, si partirà con tutto il resto. Vediamo, quindi, la situazione della classifica anche per blocco C e blocco D. Nel blocco C, Finlay ha preso il volo, veramente, a sei punti, punteggio pieno. Sotto ci sono Evil, Tamatonga, Eddie Kingston a quattro punti, mentre a due punti Nichols, Enare, Ishingo Takagi, mentre Ishi fa un lino di coda. Credo che per Ishi, che comunque, anche per una ragione legata al, come si può dire, all'età e all'utilizzo che è sempre stato fatto di Ishi, non avrebbe mai potuto vincere, adesso non ci sono dubbi. È chiaro che può diventare veramente la pietra di inciampo, perché potrebbe andare contro qualcuno che invece sta andando su e fermarlo, con una vittoria e una prestazione importante, come lui sa fare. nel blocco D sono due le persone a punteggio pieno, quindi saranno anche due i fanalini di coda. Le persone a punteggio pieno sono Zack Sabre Jr e Jeff Cobb, quindi due Gaijin. Sotto ci sono Goto e Naito, che stanno risalendo pian piano. Tanashi e Shenei stanno due punti ciascuno, mentre Toruiano e Alex Coffrey ne hanno zero. Quindi qua ci siamo praticamente con quattro accoppiamenti. Due da sei punti, due da quattro, due da due e due da zero e vedremo come riusciranno a smuovere le rispettive classifiche. Sicuramente un torneo che rimane molto interessante. Non è difficile farlo bene così per la qualità dei lottatori in gioco e comunque per le scelte che mi sembrano comunque piuttosto coerenti. Buono anche il fatto che all'interno del torneo ci siano delle storie, come la storia del predominio sul Bullet Club, che è andata in scena proprio domenica. La storia del predominio diciamo chi fa meglio all'interno dei tre moschettieri nuovi. Poi c'è gli outsider come Kingston, come Enare, che stanno veramente lavorando molto molto bene. La presentazione di personaggi che si stanno perdendo ma che stanno facendo grandi cose come Alex Coffrey per esempio. Insomma, c'è tanta roba buona in questo Climax quindi io vi consiglio di recuperarlo, di guardarlo, i match sono interessanti, facili da vedere, belli, anche quelli che sono arrivati al pareggio non sono mai arrivati stancamente al pareggio, ci sono arrivati che avevi ancora ansia e voglia di vedere cinque minuti in più. Per cui tante cose positive per il momento ma credo che ci siano gli elementi per andare avanti molto bene. il prossimo appuntamento con le review dedicate al Climax sarà tra qualche giorno perché ora ci sono tre giorni consecutivi mi pare 25, 26, 27 che porteranno ovviamente a pensare a come gestire anche la nostra review. Credo proprio farò alla fine di questi tre giorni quindi non seguirò più il discorso di blocco A e blocco B blocco C e blocco D e poi una review quindi non andrò a di pari passo ma farò un blocco da tre puntate quindi verosimilmente A e B avranno il vantaggio di avere uno show in più sulle spalle. Poi vedremo se ci sarà modo di recuperare in modo tale che si torni ad avere una situazione in cui tot numero per due gironi tot numero per gli altri due gironi di match però per il momento è così. Credo di aver detto comunque tutto quello che c'era da dire se manca qualcosa se secondo voi ci sono altri elementi che non ho tirato fuori beh è il momento di lasciare qualche commento sotto i nostri video anche per aiutare un pochino e stuzzicare l'algoritmo darci una mano per far vedere a quante più persone possibile quello che stiamo facendo anche per coprire tutti questi tornei che sono tanti e non abbiamo minimamente finito né col climax né con quelli che stanno facendo e con quelli che faranno per cui continuate a seguirci io non posso fra l'altro che ringraziarvi di cuore per aver usato il vostro tempo con noi grazie e ci sentiamo alla prossima grazie